voglio chiedere una cosa Antonietta io faccio questo brano poi faccio gli altri oppure faccio dopo e gli altri allora niente penso che progressive lo conosci con gli anziani mi piacerà anche i giovani queste comunque sono canzoni mie progressive è tutto un insieme di cose messe insieme dove si fanno delle sperimentazioni in genere degli anni 70 io cerco di rendere l'attuale sono cose mie testo e musica vediamo un cavallo che corre veloce quasi a planare come un aeroplano nuve che si intersecano direttando tracce verso i disconosciuti da con lei uè uè galoppa lasciandosi alle spalle un pastato tutto gli è stato con la forza di chi vuole inventarsi un pomeriggio però uè 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 jat che vuole la forza di chi vuole che vuole sui disconosciuti lo deve guardo 2 uè Ehi, 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 ti porta a colore, tra gli e le pianure, non è più sicure. Grazie. Chiaramente, se ne avete ascoltato, siamo a Morbid Country. Grazie. Grazie.